I Celtics che superano i Lakers e vanno ad un passo da trionfo nella serie di finali dell'NBA. In gara 5 Boston batte 92-86 Los Angeles, a cui non basta la solita superprestazione di Kobe Bryant. I Celtics si portano così ad un solo successo dal secondo titolo NBA nell'arco di tre anni. Prova monumentale da parte di Pierce, autore di 27 punti, ben supportato da Rondo e da Garnet, con 18 punti per entrambi. A Los Angeles non serve la grandissima performance, soprattutto nel terzo periodo di Bryant, che mette a segno 38 punti. Nel finale i Celtics soffrono, ma Los Angeles riesce solo ad arrivare a meno 5, prima di arrendersi definitivamente. Domani si torna a giocare a Los Angeles. Se i Lakers riusciranno ad annullare il primo match point dei Celtics, l'ultima decisiva settima partita si disputerà giovedì. I miei compagni di squadra hanno fatto un buon lavoro, ha detto Paul Pierce, al termine del match. Siamo stati una delle migliori squadre per tutto l'anno e siamo vicini alla fine. Ora abbiamo bisogno di una sola vittoria.